Ok, serve il dentista per fare la pulizia? No, basta l'igienista. In Moldavia non esistono gli igienisti. Qua si tolgono i denti e basta. E si mettono gli impianti, no? In Italia serve l'igienista perché poi tornate tutti in Italia. Vedete come l'universo ti aiuta. L'igienista può operare sulle protesi andando a fare l'igiene professionale. A casa voi dovete imparare quella domiciliare, non dovete imparare quella dell'igienista. Ok, di quella se ne occupa l'igienista formata da noi, vengono qua, gli facciamo i corsi sul paziente e gli facciamo vedere come vanno fatte le verifiche. L'igiene che, la verifica che fa l'igienista cosa è, prima di tutto, visiva, ok, ispettiva con strumenti, ok, può mandarla anche a fare l'RX di controllo. Sarebbe bene perché con la radiografia vediamo alcune cose. Con la sonda, oppure con la pinzetta, muove il multiunit, vede se si muove, si è allentato in caso di problemi, non sempre questo si fa, solo se si toglie la protesi. Visiva, vede se c'è il tartaro, più vede se c'è sangue. Deve controllare se passando la sonda poi sanguina. Se sanguina significa, e i denti sono puliti, significa che il paziente ha lavato prima di venire all'appuntamento. Ok, se sanguina. Se invece passi la sonda e non sanguina, significa che il paziente pulisce tutti i giorni. Non deve ficcare la sonda dove c'è l'impianto, deve solo metterla e allontanare la gengiva. Sono delle sonde poi queste che si piegano a 25 newton, fanno tac, ok, è arrivata al limite, non devi andare a sforzare. Però come tu togli, verifichi se c'è sanguinamento. Poi fa il test del pus, schiaccia le gengive e verifica se esce pus dall'impianto. Se esce pus vuol dire che c'è un problema, un'infezione. Ci sono alcuni casi in cui c'è un qualcosa tipo il pus, ma in realtà è il fumo. Pazienti, per esempio, che fumano, possano avere questa roba giallastra che esce, che ristagna lì dentro nel solco, ma non è pus. Bisogna discernere tra queste due cose. Poi per gli impianti zigomatici andiamo a vedere se c'è mobilità. È un pochino diversa la visita ispettiva degli impianti zigomatici. Questa è la prima parte, ok, verifica e fa la radiografia. Cosa manca secondo voi? Vorreste essere messi al corrente di quello che ha visto? Sarebbe meglio se facessi una foto e ve la mostra. Soprattutto se c'è pus, se c'è sangue e dove c'è sangue e dove c'è pus. Un conto e ti dico che sono sporchi, un conto e ti faccio vedere la foto e te la stampo e te la do. Quella motiva molto di più e sai dove devi pulire. Infatti colleghi si occupano di fare anche il set fotografico, le foto. Ok, noi con le foto e la radiografia poi in più cosa facciamo? Ricerca. Nel senso che abbiamo uno studio poi prospettico di come vanno i lavori negli anni. e sono statistiche queste che poi hanno un grosso peso se hai messo tanti impianti. Poi fai delle pubblicazioni scientifiche che hanno peso, perché non fai pubblicazioni con dieci casi all'anno. Ok, ne devi fare tanti per avere dei dati seri che puoi portare in giro a conferenze. Dopo cosa manca? Azione. Ok, azione. Bisogna fare che cosa? La valutazione del rischio. 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 Ok, qual è il rischio? Va comunicato al paziente. Guarda che il rischio è meglio se vieni ogni tre mesi, ogni quattro mesi, oppure guarda ci vediamo l'anno prossimo. È diverso. Dopodiché inizia l'igiene. Ok. Sarebbe il top, però diventa un po' costoso in Italia, fare anche il prelievo batterico. Però costa un po'. Ok, solo questo esame a noi costa circa 90 euro. Mandare un tamponcino e vedere che batteri c'erano dentro. Primo anno lo farei. Ok, perché comunque se c'è da prendere anche antibiotico oppure probiotici, insomma, voglio capirlo. È un qualcosa che introdurremo. Opzionale, però se lo potete fare, cercate di farlo. Il prelievo batterico per fare l'analisi dal primo anno lo farei. Perché così se ci sono dei grossi problemi, cioè elementi in più per dire, guarda, c'è alto rischio. Perché c'è non solamente sanguinamento, c'è anche recessione, ma in più c'è anche proprio quei batteri che sono la causa poi della perimplantite, della parodontite, quando hai tutti i denti, perimplantite quando hai tutti gli impianti. Ok, l'avete mai fatto voi un prelievo batteriologico? Mai? Per capire che batteri avevate? Quello è l'ABC della cura parodontale. Tutti dovrebbero farlo. Ok? Non il curetage. Il curetage è l'igiene meccanica, come vi ho detto prima. Ma se non sai che batteri ci sono, non sai che antibiotico devi dare. Cioè ne sono 6-7 di antibiotici che puoi dare. Vi faccio vedere... Quindi, quella cura che fai fare di tutti quei produttori più quel... Al 99% prende tutto. Per quello vi ho messo il Fragile dentro. Nel foglio lì troverete, dovete prendere in farmacia questo Fragile. Eh, ma quello lì riesce a ribellare i batteri? Quindi, la parte del lavoro lo fa quello. Allora, ti faccio vedere, vediamo se me lo fa scaricare. Eccolo qua. Un antibiogramma, ti faccio vedere. Quando io stavo in Italia di questi ne ho fatti tantissimi. Tanti, tanti, tanti. Vedi dove... Questo è un paziente con i denti, ok? Vedi dove ci sono i denti, e qua inserisci un cottoncino. Poi quel cottoncino lo mandi al laboratorio, così, e lui ti dice che batteri ci sono dentro. Puoi anche fare questo, il tampone, lo scrub, così vedi anche se c'ha la carenza della interleuchina 1. E loro vanno a controllare questi batteri. Questi qua sono in genere i batteri che trovandosi tra di loro insieme causano poi la piorrea. Non è che la causano, la scatenano. Poi se c'è anche il fumo, paziente che non pulisce, ponti. Sono tante con cause, allora più o meno veloce può andare. Se questi gruppi di batteri passano questa linea nera, bisogna fare la pulizia. Se entrano dentro a questi rettangoli, bisogna dare quell'antibiotico. Ok, il più delle volte quello che ci causa problemi è il gruppo del complesso rosso, è quell'arancione. In questi casi, che sono quasi la stragrande maggioranza dei casi, bisogna dare poi il flagile. Se andate in farmacia vi diranno che è per uso ginecologico. Non sanno come sicura parodontite, è quello che bisogna prendere. Poi, se questo riusciamo a farlo in maniera sistematica, ogni tre anni, vediamo anche se c'è un cambiamento della flora batterica. a a a a a a a a